andiamo andiamo bello figo billone billone non mi fa assaggiare perché sono calabrese non mi fa assaggiare perché sono calabrese calabrese cambia attenzione video nuovo di video game donkey si ferma tutto il teatrino billone non mi fa assaggiare perché sono gamer ma è un grande video game donkey riesce a essere ironico pure in questi casi comunque mi cambio un attimo e facciamo il discorso ragazzi vai lo ricarichiamo sul canale che ho bisogno di content quello che abbiamo visto oggi sul canale di video game donkey è significativo ma prima ho visto un video prima di fare la live ho visto un video ancora più bello che si chiama modern gaming punto di questo canale emergente veramente bello voglio farvelo vedere un po perché mi ha dato da pensare così tante cose questo video qua di questo self deficit di deficient self deficient ve lo consiglio perché è fenomenale top 18 reasons modern gaming has made by dick stop working number one halo infinite and cyberpunk 2077 and no man's sky and madden nfl and battlefield and star citizen triple a games hate you they hate the notion that they have to actually entertain you so instead they just wish upon a star and promise questa è la parola è la parola sulla quale ci concentreremo promesse ragazzi noi faremo questo noi faremo questo il triple a incredibile l'hype l'hype incredibile trailer da milioni e milioni di visualizzazioni e poi al lancio sono un disastro quando un gioco al lancio non è un disastro ripetendo il discorso baldur's gate 3 è l'eccezione non è la regola quindi la regola è la merda la regola sono le false promesse dei triple a it'll all come together someday every madden game that's release is trash vabbè ma dio i giochi di sport non li conto oh infinite has the other worldly nerve to make a road map announcing the beta for match xp as a fucking feature lo adoro perché lui è incazzato nero è proprio incazzato fra ecco vedete grand theft auto trilogy grand theft auto trilogy io ammetto di aver io ammetto ammetto di aver fatto un acquisto di merda io ammetto di aver fatto un acquisto di merda però sono stato spinto dalla nostalgia un altro fattore importante di tante case come per esempio rockstar che ultimamente si sta comportando una chiavica e la nostalgia mi sono fatto fregare una volta in realtà sono tre giochi io l'ho pagato pure 20 euro ci sta pure tra virgolette diciamo che ci sta anche se in realtà no però sarò così stronzo da comprare red dead redemption remaster che di remastered non ha niente su ps4 no rockstar puoi puoi scavare il fondo del barile fino a un certo punto dice alcune cose importanti dice anche una cosa a cui sono molto molto affezionato cioè l'emulazione l'emulazione ragazzi io penso che essere un videogiocatore nel 2023 significa essere coscienti io sono dell'idea che la cosa più importante 69 spettatori io sono dell'idea che la cosa più importante che debba fare una casa produttrice di pubblicazione di un videogioco e allo stesso tempo anche un videogiocatore sia preservare i videogiochi Nintendo si incazza come una iena su questo argomento ma per me l'emulazione è l'unico vero modo per preservare i videogiochi negli anni i videogiochi sono come l'arte vanno preservati nel momento in cui io non ho un modo per giocare a super mario world perché non ho uno snes in realtà ce l'ho lo snes non ho uno snes e non ho la cartuccia io che faccio lo emulo perché perché voglio giocare a super mario world perché esiste una rom di super mario world ma poi a parte che l'emulazione è intesa come preservare i videogiochi c'è anche l'emulazione con le rom mac ci sono universi interi che si creano attorno all'emulazione per esempio doom wow doom è il gioco più moddato al mondo esiste myhouse.wad che è una delle cose più assurde create con un gioco di 30 anni fa ma questo è bellissimo ragazzi queste sono cose bellissime perché io ho comprato un nintendo ds lite nel 2023 perché che sono pazzo e che sono un nostalgico ho fatto un nintendo ds lite a 15 euro su vinted l'ho comprato subito ho venduto il mio vecchio a 5 e l'r4 mi è stato regalato da da mio fratello carlo del moca mam the podcast ti saluto bro e ti ringrazio sempre io qua tra le mie mani tra le mie mani io ho uno dei più bei passatempo mai creati dall'essere umano motivo per il quale io appena troverò su vinted su subito.it una psp la moddo e ci emulo il cazzo che mi pare fino a presumo playstation 1 non lo so fino a che regge la psp però io posso emulare anche con la psp e la cosa bella dell'r4 è che l'r4 si interpone a metà tra l'emulazione e la copia fisica perché perché questa è una cartuccia perché perché questo è hardware originale ma l'r4 usa le rom emulando se stesso è una cosa bellissima ragazzi che io prendo accendo trovo edge gioco a castelvania swag della fessa fra è troppo bello noi gamer siamo la razza più oppressa figurate un gamer napoletano bro mamma mia ma che bello fra guarda guarda il mio parco titoli guarda il mio parco titoli bam bam crono trigger 10.000 professor layton tetris questa era la mia pubertà non voglio dire la mia infanzia perché il nintendo wii è uscito nel 2006 io l'ho comprato nel 2008 2009 questa era la mia post infanzia era la mia pubertà ragazzi volete mettere cioè ognuno di questi a parte questo l'ho stampato io monster hunter 3 michael jackson the experience just dance waiu ya just dance io tenevo tutti tutti il gioco disc the calling waiu questo gioco era una trashata di merda però mi caccavo addosso the goal dead space con la copertina stampata male da me questo ragazzi questo questa era la mia adolescenza e io ero fortunato cazzo se ero fortunato eccitare questa cosa fa male all'industria videoludica e non me ne fotte raga fa bene a me fa bene a me faceva bene a me avete visto i problemi che nintendo fa con dolphin nell'emulatore cioè nintendo non vuole saperne cazzi perché dice ma io nel mio nel mio catalogo del nintendo switch online ti ci metto anche il retro gaming si ma che retro gaming è ci sono poche robe poi comunque io ti sto pagando l'abbonamento allo switch se io lo switch non lo voglio ma voglio giocarmi super mario world e mi scarico la roma di super mario world vi nintego tutto il bene nintendo nintendo fa ma tutto bene nintendo 64 pure che c'ha un parco titoli di 300 titoli nintendo 64 è stato un mezzo flop mi stai dicendo nintendo che non devo emulare dd con racing ya nintendo mi stai dicendo non devi emulare dd con racing excite bike 64 non lo devi emulare per dirti no io i giochi che voglio sostenere io li sostengo se a me piace è come ragazzi sono come le scan le scan nei manga se voi non potete permettervi il manga cartaceo leggetevi le scan se l'opera vi piace ve la comprerete in futuro quando avrete i soldi ci sta però chiaramente quando poi qualcosa ti piace a quel punto tu e nel tuo e nella tua bontà d'animo nella tua etica puoi comprare il prodotto originale capito però certo se io mi voglio emulare gex 1 per il sega saturn è chiaro che poi non mi compro 800 euro su ebay di sega saturn e 400 euro di gioco è normale che lo emulerò perché non sono un coglione che mi piace mi piace per il 3 di o nemmeno per il sega saturn per il 3 di o nessuno penso nessuno di voi sappia cos'è un 3 di o cioè ma nemmeno io lo so solo di nome quindi boh assurdo capito ma in generale emulazione retro gaming è una mezza è mezza una zona grigia perché eticamente non andrebbe fatto ma l'atto pratico poi se compri la copia originale i soldi loro li hanno già avuti da un altro cristiano e aumenti solo la speculazione su determinate console giochi anche kenzo anche io sono molto io sono molto fan del mercato dell'usato io ultimamente sto prediligendo le copie fisica al digitale per dirvi dreams dreams è uscito gratis col plus io ho preferito comprare la copia fisica a 7 euro su vinted ce li spendo 7 euro la voglio la copia fisica a me piace avere la copia fisica il gaming sta andando in una direzione sempre più digitale che da un punto di vista ci sta dall'altro no per niente ci sta l'idea di ridurre i costi di produzione di rilasciare magari su pc infatti il gaming è sempre stato in digitale o comunque quando ci stavano le copie con windows live facevano schifo e il pc è diventato digitale scusate il gaming su pc è diventato puramente digitale ma io se sono un videogiocatore su console io devo ambire a comprare i giochi in fisico perché l'unico modo per avere un gioco per sempre oltre all'emulazione è comprare un gioco in fisico no proprio questo no un gioco in fisico io tramite questo dischetto io ho un gioco per sempre una cosa a cui penso molto è che prima risparmiavi di più comprando in digitale con gli sconti adesso conviene quasi più il fisico bravo perché tipo dark soul 3 a 50 non lo compro a parte questo no che tu quando hai un gioco in digitale tu non hai il gioco vero hai la chiave d'accesso al gioco se io tra dieci anni voglio portare la ps4 in cima a una montagna sperduta tra le alpi senza connessione a internet i server di ps4 sono stati chiusi definitivamente io non posso giocare i miei giochi in digitale perché non mi fa fare accesso al mio account non mi fa scaricare i giochi quindi qual è l'unico modo se io vado a vivere in cima a una montagna come il fottuto monaco shaolin l'unica cosa io posso fare per giocare è una copia fisica perché io finché accendo la play pure se la play mi dice chi sei sono la sciuccia di tua mamma allora fottiti io metto questo dentro e ci gioco punto ci gioco perché non mi chiede l'accesso non mi chiede internet non mi chiede i server questo chiaramente ragazzi giochiamo alla vanilla questo è un esempio sbagliato è che questo è un gioco online che prende le creazioni da internet però per dirvi no elder ring eccolo qua elder ring elder ring tu puoi giocare alla vanilla che è un gioco completo dall'inizio alla fine la vanilla di elder ring ci sta il pestone di ghiaccio che leva 14.000 che non è stato pacciato però tu puoi giocare a questo gioco dall'inizio alla fine ed è per questo che front software come pochissime case videoludiche c'è ancora le palle ottagonali di far uscire giochi completi di far uscire giochi giocabili dall'inizio alla fine anche senza senza le patch poi è chiaro che le patch hanno sistemato il balancing delle armi hanno sistemato il pireto storto hanno sistemato hanno messo le quest la quest di patch la quest di sgrullo pesce tutto quanto però tu puoi giocare questo gioco senza patch senza internet dall'inizio alla fine e questa cosa nel gaming godierno viene data per scontata papà è buono papà è buono seguite siamo ordinari gamers su youtube perché lui si batte per l'emulazione lui si batte seguite video game donkey perché lui è la voce più controversa e allo stesso tempo relatable dell'industria del gaming e per dirvi no negli ultimi anni cos'è che davvero è una luce una fonte di speranza la scena indie la scena indie ha cacciato certi capolavori hollow knight blasphemous vabbè io so fan dei metroidvania penso si sia capito questo è di koji garashi koji non mi ricordo di garashi lo stesso creatore di castelvania symphony of the night castelvania tutti quelli su ds capped pure un indie con le palle la scena indie è quella più interessante non voglio dire ori ori pure un bel gioco non voglio dire con questo che i tripla siano tutti una merda per esempio god of war c'ha un gameplay con le palle così guaiu ma poi ragnarok c'ha un significato intrinseco bellissimo così come 2018 il rapporto padre figlio poi sono quel tipo di videogiocatore che tiene ancora la ps4 perché che cazzo di senso ha comprare la ps5 se tanto i giochi escono su ps4 e bro ma tu 60 fps non li vedi e vabbè bro 60 fps contro 600 euro di spesa preferisco 30 fps quando uscirà una ps5 slim un po più ridotta sia nel prezzo che nel formato perché quella bestia è un'astronave quando usciranno finalmente dei giochi solo su ps5 perché io allora io sincero io ne traggo vantaggio che i giochi escono ancora su ps4 però basta basta ragazzi ora dobbiamo sfruttare la console nuova la mia ps4 è stata riparata due volte ragazzi due volte è stata riparata funziona ancora ci ho giocato il del ring ci giocherò al dlc del ring probabilmente ci giocherò pure ad armor red core quando costerà meno perché poi comunque io sono il gay ragazzi io sono il gamer puzzato di fame io sono il gamer povero e non c'è nulla di più bello di essere un gamer povero perché tu fai questa cosa qua tu ti compri una psp su vinte da 30 euro ci scarichi il software craccato sopra e ti emuli ps1 vedi questo video di self deficient modern gaming mi ha aperto gli occhi su una questione che oggi ci tenevo a esternare un gamer un gamers un gamers cioè per dirti fra tu vai su twitch quali sono le categorie più gettonate quali sono le categorie gettonate mica 120 stelle su super mario 64 che cazzuta come categoria quali sono league of legends tft gli ultimi giochi perché vabbè fanno tendenza quindi starfield vabbè minecraft fra minecraft è un gioco che non si può criticare minecraft è dio minecraft è incredibile poi è l'unico gioco che dopo dieci anni riesce ad essere ancora così rilevante vabbè anche league of legends però fanculo league of legends fra è come l'eroina o io vi giuro o voi mo dato che questa cosa andrà anche caricata sul canale youtube voglio dire una cosa è una piaga sociale bro ti giuro io mi ricordo io quando avevo 16 anni quando avevo 16 17 anni si portava assai league of legends io non ho mai conosciuto un giocatore di league of legends che gode che si diverte a gioco madonna quanto mi sono divertito dopo quest'ora di ranked ma quanto mi sono divertito oh bro ci facciamo una partita league guada ai grande non vedo l'ora bro mai nessuno mai nessuno fra non ho mai conosciuto un giocatore di lol che si diverte a giocare a lol oh bro è finito di giocare a lol ti va di scendere no non voglio scendere perché l'ho lavando stucato non voglio accendere ma ma non ho mai visto un giocatore di lol che si diverte che dopo una partita sta si mi sono divertito riot avanguardisti avevano capito nel 2009 come creare dipendenza vera si comunque vabbè cambiamo discorso comunque il discorso gaming nel 2023 è un discorso difficile da fare infatti io tra 10 anni non mi immagino più videogiocatore io penso al me 25enne se devo pensare al me 35enne che vivo in casa con la mia compagna lavoro sono comunque mi auguro di essere realizzato a 35 anni io non mi riesco a immaginare videogiocatore se non emulando giochi retro o giocando ancora alla 73esima run di elder ring o di dark soul 1 o di dark soul 2 o di dark soul 3 viva dark soul 2 sempre tra parentesi comunque niente capito non mi riesco a immaginare perché se io devo pensare al futuro del gaming è un futuro un po' distopico perché vediamo questo gaming in generale che viene sempre più bombardato di subscription online di giochi con il loot io quando avevo 14 15 anni facevo la cosa più bella del mondo prendevo il disco di black ops 2 lo schiaffavo nella ps3 attivavo il mio microfonino bluetooth perché all'epoca non c'era il coso il coso con il cavo nel controller ps3 all'epoca c'era il cosino bluetooth del gamestop che funzionavano a merda oh bro ci sei? bro che vogliamo fare? zombie? eh no facciamo prima un paio di match e poi zombie dai andiamo a camperare su nuketown 2025 bah amore di divertimento con l'mk48 con il visore termico bah bellissimo metti oggi warzone vi ricordate quando io un anno e mezzo fa ho scaricato warzone per provarlo vabbè su ps4 quindi non funzionava niente io già dall'hud già dal menu del matchmaking non ci ho capito un cazzo 30.000 cose a schermo il loot scarica il loot vai compra il loot vedi che ti esce la skin esclusiva invece era così semplice black ops 2 così come black ops 1 mv2 mv3 erano così semplici poi matchmaking online bellissimo multiplayer entravi nella lobby attivavi il microfono tutti i bambini oh figlio i bucchi oh c'è trovi smu qua e io con i miei amici oh scemi e merdo parufratelo cazzo eh bah che bello fra che bello non è più come una volta però le potenzialità per rifare quella cosa ci sono non mi cambio di nuovo maglietta perché così così ritorniamo alla live normale ragazzi tutti quanti in coro a cantare l'inno non ho voce tutti quanti in coro a cantare l'inno nazionale giapponese what a thrill with darkness and silence through the night d bello di papa papa è buono papa è buono è napolitan fresh frat a me è napolitan fresh di facimi indaffissima amm grazie grazie peppe fetiche original grazie cu buona sera paghetta dal patà buona sera vorrei dare due euro a questo freemer perché le li piede puzzolente grazie a tutti